Nella regione del nord-est del Brasile c'è una notevole richiesta di agroalimentare di qualità, di prodotti meccanici, carpenteria e servizi. Le potenzialità dell'export sono da incentivare e di conseguenza è necessario avviare attività di import-export per produrre economia e dare la giusta valenza ai prodotti calabresi. L'assessorato all'internazionalizzazione e ai programmi di cooperazione del Comune di Cosenza ha promosso un incontro informativo rivolto ad aziende e operatori economici proprio sulle potenzialità derivanti dall'avvio di attività del genere. Questo è un progetto di penetrazione di mercato che noi faremo col Brasile. Abbiamo individuato il BRICS come area di prima fase. Il Brasile è proprio l'inizio di questa nostra politica di internazionalizzazione per le imprese della città ma anche della provincia e della Calabria in genere. Non vogliamo sostituirci certamente alla regione però in questo momento avevamo l'intenzione di partire in una zona dove ancora non c'è la massificazione di mercato e quindi dove ci sono più quote di mercato libere per gli nostri imprenditori. Abbiamo individuato lo stato del Serra che è il nord-est del Brasile e c'è solo un 1% di esportatori italiani in questa zona. Tenendo conto che il Brasile fa quasi 28 milioni di italiani e che la lingua parlata di italiano è la terza per preferenza e che amano l'Italia in tutte le sue sfaccettature, allora i nostri imprenditori avranno una zona non dico vergine ma di grande espansione di mercato con pochi esportatori, quindi con grandi quote di mercato libere rispetto ai classici mercati del Brasile, quindi San Paolo, Rio eccetera eccetera. Nel corso dell'incontro è stata anche formalizzata la collaborazione interistituzionale con la Camera di Commercio Italo-Brasiliana del nord-est del Brasile. Il Brasile essendo di dimensioni enormi, diciamo che il centro-sud del paese è già fortemente industrializzato e organizzato mentre abbiamo una realtà nel nord-nord-est che è una realtà che sta crescendo a ritmi sostenuti. Oltretutto negli ultimi anni notiamo che i brasiliani stanno crescendo come livello proprio di salari e quindi livello di vita e quindi possono spendere, possono creare attività e di conseguenza aumentano i bisogni e le necessità.